Ciao, sono Giacomo Spunta e sono il docente del corso di radio di Emotion School. Le nostre lezioni saranno online sul sito www.emotionschool.com Parleremo di storia della radio, faremo dei brevi cenni su come è iniziata e come si è evoluta la radio fino ad arrivare ai giorni nostri e affronteremo anche molto il discorso di formati radiofonici. Un occhio molto importante sarà dato anche ai software di messa in onda, quindi andremo a capire quali sono, come si usano a partire dai primi passi fino ad arrivare al lavoro professionale vero e proprio. La scarretta musicale, affronteremo chiaramente anche questo argomento che è molto importante, che rappresenta il cartaccio, quello che poi dovremo mandare in onda in fase di diretta, di messa in onda di tutto il materiale preparato in precedenza. Vedremo come il fonico si organizza per la sua giornata di messa in onda, di diretta e di programmazione, di montaggio, di eventuali jingle e sigle. Capiremo bene cosa vuol dire durante una giornata lavorare in una radio, sarà un percorso molto interessante che suggerisco veramente di affrontare con felicità. Vi ripeto il sito www.emotionschool.com, questo è il corso di radio, vi aspetto, ciao a tutti. A Luna Park ci andiamo a vittarli. Ho detto qualcosa di non sensato, adesso mi passa. Un po' andato ma è meglio che impari prima le cose, i bastoncini. Ferma, stavo dicendo una s*****a. La dedizione, allora parliamo della comprensione. Va bene, cerchiamo di parlare 3-4 persone alla volta. Io Biscardi. Biscardi era di Bari? Io ho pensato, scusami, possiamo... Pausa. Una volta compreso il percorso di... Se non ridi, non rido nemmeno niente. Pausa. Questo per avvicinarsi sempre di più al gradimento, al... Diciamo, al... Pausa. Per qualsiasi dubbio, contattatemi alla mia mail, vi risponderò in qualsiasi momento tranne di notte. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao. Questa è bellissima.